Alleluia Gesù e il Signore. Buonasera a tutti, grazie anche per il vostro ascolto di questi inserti, di questi momenti che noi emettiamo sui social. Vi raggiungo dalla sede nazionale del rinnovamento nello Spirito Santo, dove come responsabili abbiamo reiniziato settimanalmente ad essere presenti, per essere vicini al cammino dei gruppi, dei comunità e dei cenacoli del rinnovamento nello Spirito Santo, che pian pianino si stanno riaffacciando alla vita diciamo ordinaria, ma è un modo di dire, perché sappiamo bene le grandi difficoltà che un po' a macchia di leopardo sul territorio nazionale le nostre realtà stanno vivendo per ricominciare a vivere la preghiera comunitaria carismatica, la formazione, la fraternità. Ma siamo passati in un'altra fase e è opportuno in questa fase guardare con fiducia, con fede, anche che con una fede intelligente, con una fede sapiente, con una fede anche prudente, al cammino che abbiamo davanti. E da stasera allora abbiamo voluto avviare settimanalmente un inserto sui nostri social nei quali andiamo a indicare quali saranno le prossime tappe del nostro cammino come grande famiglia del rinnovamento nello Spirito Santo in Italia. Ci sembra bello condividere e dare, diciamo così, la prospettiva di quello che vorremmo realizzare come lo comprendiamo dallo Spirito Santo. Noi siamo certi che lo Spirito Santo ci invita a testimoniare la nostra fede, ci invita a pregare, ci invita a vivere la comunione fraterna, ci invita a riprendere con la dovuta cautela e prudenza il cammino dei nostri cenacoli, dei gruppi e delle comunità. Abbiamo allora denominato questa rubrica in movimento. Certamente il rinnovamento nello Spirito come parte della grande famiglia del rinnovamento carismatico cattolico è nella sua essenza corrente di grazia. Ma quando questa corrente di grazia si incarna nel tessuto delle nostre parrocchie, nel tessuto delle nostre chiese locali, delle nostre diocesi, siamo anche un movimento. E in movimento esprime anche questa nostra capacità di vivere la nostra dimensione ecclesiale. Dimensione ecclesiale che si sostanzia anche in decisioni, in programmazioni da effettuare e anche in iniziative che crediamo lo Spirito Santo ci dia da vivere. Quindi in movimento è soprattutto un essere in movimento perché è lo Spirito che ci spinge. Direbbe l'Apostolo Paolo è che l'amore di Dio, quindi lo Spirito Santo che è l'amore di Dio, ci spinge. Nella vita spirituale non esiste la dimensione della stasi. La vita spirituale è un cammino. San Paolo dice nella lettera ai Galati che se viviamo nello Spirito dobbiamo anche camminare nello Spirito. Chi si ferma nel cammino spirituale in realtà non si ferma ad un livello ma rischia di andare indietro. Il compito allora del Comitato Nazionale di Servizio e del Consiglio Nazionale è anche di comprendere in questo tempo difficile cosa lo Spirito ci spinge a realizzare. E attraverso questa rubrica in movimento ne vorremmo dare le ragioni, ma soprattutto le ragioni della fede, delle ragioni spirituali. Allora stasera iniziamo nel presentarvi una iniziativa che vedrà protagonisti i pastorali di servizio nei prossimi mesi. Il tempo estivo storicamente ha sempre rappresentato un tempo di formazione, formazione carismatica, formazione all'animazione, formazione alla vita spirituale. Negli anni scorsi avevamo settimane formative, ma comprendiamo bene che non è il tempo di programmare settimane di formazione. Nello stesso tempo però abbiamo pensato che sia importante soprattutto per coloro che hanno la responsabilità carismatica della guida dei nostri cenagoli, gruppi e comunità di riservare per i pastorali di servizio un tempo di incontro e di formazione nel quale riconsegnare nel tempo post-Covid la vita del rinnovamento. Il Covid ha certamente segnato uno spartiacque. Non possiamo pensare di riprendere le nostre attività semplicemente riattaccando il filo là dove si era spezzato. C'è da fare una riflessione, è una riflessione complessiva e in un certo senso ci siamo resi conto che l'esperienza del lockdown, l'esperienza del fermo del nostro cammino spirituale e carismatico ha in qualche modo segnato la vita sia personale che comunitaria dei nostri aderenti al rinnovamento nello Spirito Santo. E quindi è opportuno, è giusto, è importante in qualche modo riconsegnare la vita del rinnovamento così come si può prospettare da questo momento in poi a coloro che hanno la grande responsabilità di guidare gli oltre 1800 gruppi e comunità sparsi sul territorio. Allora abbiamo pensato in questi mesi estivi di indire un incontro pastorale regionale, quindi in ogni regione, dedicato esclusivamente ai pastorali di servizio. Saranno incontri dove non potranno partecipare grandi numeri perché in ossegue alle disposizioni legislative ma anche ecclesiali, saranno incontri dove non potranno, diciamo così, vedersi grande affluenze di persone. E nello stesso tempo, proprio perché non saranno incontri con un gran numero di persone, saranno incontri molto approfonditi e importanti. Incontri di due giorni, incontri di due giorni anche non residenziali, quindi con la possibilità per i partecipanti di poter tornare a casa, diciamo così. Abbiamo chiesto ad ogni regione di organizzarli in modo tale che i fratelli possono raggiungere facilmente questi luoghi, soprattutto se desiderano non farlo in modo residenziale. È chiaro che questi incontri pastorali saranno realizzati laddove è possibile, secondo le modalità, come appena detto anche dateci dalle normative, senza forzare la mano, ma nello stesso tempo senza essere in qualche modo schiacciati da una paura che non appartiene a coloro che hanno la fede. Come abbiamo denominato questi incontri pastorali? Gli abbiamo dato un titolo e secondo noi in questo titolo c'è già tutto il progetto. In comunione per uno slancio carismatico. In comunione. Questo termine in comunione, che molto spesso è abusato, è fondamentale, perché la vita nello spirito che abbiamo avuto attraverso la preghiera per una rinnovata effusione nello Spirito Santo, attraverso il battesimo nello Spirito, è una vita che si può esprimere solo in comunione. Non esiste relazione con Gesù, non esiste relazione con lo Spirito Santo e con il Padre, che non ci fa centrare in comunione. Dobbiamo ricentrare la vita dei nostri gruppi e delle nostre comunità nella vita di comunione. Il rischio di percepire una vita spirituale individualistica potrebbe essere stato accentuato nel lockdown, dove siamo stati forzatamente divisi gli uni dagli altri. Allora vogliamo ripartire da questo concetto, l'importanza della comunione. La seconda parte della frase che dà il titolo a questi incontri è per un nuovo slancio carismatico. Come ho detto prima, ci siamo resi conto, era normale, era ovvio che l'assenza per oltre tre mesi di una preghiera comunitaria carismatica vissuta in ogni gruppo e comunità possa aver affievolito, in qualche modo rattappito, in qualche modo ricondotto ad un livello più basso la nostra vita carismatica. Abbiamo bisogno invece di un nuovo slancio carismatico, ma non perché ne ha bisogno il rinnovamento dello Spirito, ne ha bisogno la nostra società, ne ha bisogno la Chiesa, ne hanno bisogno i fratelli e le sorelle che non appartenendo il rinnovamento dello Spirito Santo verranno, dopo questa esperienza del Covid, a bussare alle nostre porte, pian pianino, quando succederà nei prossimi mesi, ma avremo tanti fratelli e tante sorelle che forse questa esperienza del Covid ci porterà con tanti bisogni e a questi bisogni Dio corrisponde attraverso i doni carismatici che dona alle nostre comunità, nelle nostre comunità, ai fratelli. Quali saranno allora i temi fondamentali che svilupperemo in queste due giorni che abbiamo iniziato a programmare in ogni regione? Allora, comunione abbiamo detto, comunità, carismi per riaffermare la profezia del rinnovamento nella Chiesa e nel mondo. Ma un altro tema che intentiamo rimettere a centro, al fondamento della nostra esperienza del rinnovamento nello Spirito è l'importanza della preghiera comunitaria carismatica. Primo valore identitario di rinnovamento e soprattutto anche un grande strumento di evangelizzazione, con tutta la dimensione della della fraternità, della preghiera e della lode che ci porta alla presenza di Dio. In questi due giorni sottolineeremo anche come ci sia bisogno di avere un'attenzione particolare all'umanità ferita dall'esperienza del Covid. Ripartendo dalla cura delle nostre fragilità attraverso quelle dimensioni esperienziali e carismatiche come l'accoglienza, le consolazioni, le intercessioni, le liberazioni e le guarigioni. In ultimo, altro tema fondamentale che intendiamo affrontare è ricondurre al cuore, quindi ricordare ad ogni responsabile, ad ogni fratello dei pastorati di servizio che si è stati eletti dal Signore al servizio del rinnovamento e quindi si è stati chiamati da Lui attraverso un carisma di governo che la comunità ha riconosciuto, un carisma di governo che porta però al servizio e al servizio della gioia e dell'amore ai fratelli. Quindi intendiamo anche fare in modo che questo incontro di questi due giorni possa rigenerare l'esperienza carismatica dei nostri fratelli responsabili. Allora vogliamo ripartire piano piano con le cautelere opportune, laddove è permesso e concesso, secondo le disposizioni amministrative, civili dello Stato e anche secondo le opportune disposizioni della Chiesa e dei nostri Vescovi, vogliamo ripartire laddove è possibile, con prudenza ma anche con fede, con sapienza ma senza timore. È un equilibrio che dobbiamo avere anche forse in qualche situazione scuoterci un po' dal torpore che questo Covid ci ha generato e chiedere allo Spirito Santo di donarci quella capacità spirituale, spirituale, che non è capacità di ragionamento ma è nello Spirito di comprendere come profeticamente dobbiamo ripartire insieme. C'è una ripartenza economica che tutti quanti lo spieghiamo, certamente. C'è una ripartenza lavorativa che tutti quanti desideriamo avvenga, certamente. Ma parimenti c'è bisogno non soltanto per noi stessi ma per la nostra Chiesa, per l'Italia, per il Paese, di una ripartenza della vita spirituale. C'è bisogno di riconsiderare come iniziare a fare di nuovo i passi in una vita nello Spirito, in un modo adeguato. Non è il tempo di rimanere più fermi, nello stesso tempo è tempo di avere la capacità di capire quali sono i primi passi da fare. Ma è giunto il tempo di fare questi primi passi. Nell'auspicio che nei prossimi mesi, soprattutto anche dopo questo momento estivo di formazione, i nostri gruppi e le nostre comunità possano ritornare a rivivere in un modo adeguato la preghiera comunitaria carismatica, la fraternità, la formazione, la vita sacramentale. Ed è per questo che abbiamo chiamato a raccolta per primi i pastorali di servizio, perché abbiano contezza di questa necessità spirituale e nello stesso tempo possano sentirsi incoraggiati, accompagnati, consolati in questo ministero non facile di guida delle nostre comunità. Ripartiamo allora insieme, in comunione per un nuovo slancio carismatico. Non è semplicemente uno slogan, ma vuole essere il nostro impegno di questi prossimi mesi. Alleluia, Gesù è il Signore.